Buongiorno, mi puoi tagliare i capelli? Ma certo! Guardarsi allo specchio, mentre ti tagli i capelli troppo corti Ha paura! Pensare a un enorme uccellaccio con i denti aguzzi che ti porta via Ha paura! Sentire il profumo di un fiore e scoprire che dentro c'è un'ape Fa paura! Cercare le scarpe sotto il letto e toccare qualcosa che non sai cos'è Fa paura! Scoprire che è il tuo miglior amico, ha un miglior amico che non sei tu Fa paura! Tenere la mano di qualcuno pensando che sia tua mamma invece non lo è Fa paura! Lavarsi i denti con qualcosa che sembrava dentifricio invece non lo è Fa paura! Fa paura! Fa paura! Fa paura! Fa paura! Fa paura! Sapere che i tuoi genitori stanno parlando di te ma non sai cosa dicono Fa paura! Fa paura! Pensare a come sarebbe stato nascere un ippopotamo Fa paura! Fa paura! Essere ammarciato da qui non ti piace! Fa paura! Andare in altalena con qualcuno che ti spinge troppo forte Fa paura! Pattinare in discesa senza sapere come fermarsi Fa paura! Pestare qualcosa di mollizio a piedi nudi Fa paura! Sapere che crescerai E diventerai grande Fa paura! Ma invecchiare potrebbe essere interessante Perchè! Perchè! Ho! Grazie a tutti. Grazie a tutti.